ragazzi per questo video il segno di HB05 è molto bello e bello tutti ragazzi, e poi ragazzi oggi siamo allora ragazzi oggi sono con HB05 e allora praticamente ragazzi siamo siamo diventati conoscenari perchè praticamente stiamo facendo il video da tutti e due e vabbè comunque a te sta durando un quarto di secondi 15 secondi e a me già sto a 30 secondi allora, aspettate un attimo comunque adesso abbiamo stoppato di qua c'è anche un po' di stupido allora ragazzi sono andato al backdoor e praticamente sono qui ok guardate ok guardate e poi guardate e dai e dai ecco la faccio io allora di che telefono devo guardare allora aspetta l'ha aperto per me penso di野 menggolazioni più sexy grb è stata la magica ma io tu nelle viste ne vedere ma il mio video non si vede la magica come cazzo ha fatto ma l'ho fatto ma la fanna è in pollo è la città guardate guardate la città prendi pure il tuo guardate 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 questo va be' aspettate un attimo ah io voglio un colpo raga io voglio mandare questo dopo non lo so dopo e vabbè vi vedo un pochino qua e ci vediamo ciao vabbè lo finisco anch'io per questo mi devo terminare qua se non ci sei ancora iscritto mettete like e iscrivetevi ciao a quanti letti arriviamo? 5 10 per 10 like per HB05 collaborazione 8 vai bello ci vediamo al prossimo video